Passiamo al terzo tipo di saccheggio. Uno dirà, beh ma stai parlando di saccheggi che non sono esistiti. Non è vero, perché a volte, almeno io la vedo così, ci può essere il saccheggio della bellezza, di un'armonia e di un equilibrio. Non è detto che il saccheggio si pesi in soldi, cominciamo a togliercela questa idea, che forse sarà meglio. E quindi in questo saccheggio io vedo 50 anni di strumenti urbanistici raffinati, tanti copie e colla, tantissimi vincoli asfissianti, tanti soldi, tanti soldi, tanti soldi, tante chiacchiere e tanti applausi. I risultati? Vediamoli un po'. Senza la fabbrica, l'insieme villaggio ha perso uno dei suoi due requisiti fondamentali, così come erano avviluppati in un abbraccio di cert'anni. Questa caratteristica di simbiosi è stata anche determinante per l'inserimento nella lista del patrimonio dell'umanità. Il fatto che questi due elementi convivessero ha giocato molto per avere la nomination. Quindi si mette a rischio anche il mantenimento del suo valore universale, ben descritto nell'atto di nomina. Quindi abbiamo perso una parte, rimane l'altra. Ed è giusto, giustissimo, che chi governa ne debba tenere conto. Quindi l'attenzione, tutta l'attenzione possibile al villaggio. E qui dal 1963, quindi ancora da prima dell'UNESCO, tenere presente che il nostro villaggio, anche senza UNESCO, era comunque un'unicità storica e quindi si sono preoccupati anche in anni molto precedenti. Quindi dal 1963, non sto ad elencarli, però si sono susseguiti tutta una serie di strumenti urbanistici molto importanti. Dico solo alcuni celebri personaggi che vi hanno contribuito, che hanno collaborato, per esempio Gaspari, Barbiellini, Amidei, che sarebbe poi diventato futuro direttore del Corriere della Sera. Edo Bricchetti, quest'ultimo poi diventato un famoso saggista sull'archeologia industriale. Un sacco di tesi di laurea, a decine, a decine. Nel 1990 è arrivato poi quel famoso piano di edilizio economico popolare, dare una casa al popolo, risultava quei tempi molto cult, grazie a tutti coloro che l'hanno mandata a Remengo. E ogni volta che si ritoriva qualcosa, perché ogni 3-4 anni, anche meno, arriva piano qui, piano là, cubegni, tavoli, presentazioni, conclusioni, passerelle, sfilate. A volte si portano anche in trasferta, per decenni, con il seguito di applausi, dove però gli applausi non spellavano le mani. Qualche tentativo di intervento da parte dei cittadini, subito ho fatto rientrare nel Politically Correct. Mi sono divertita l'altro giorno a leggere la sfilza di partecipanti ad un incontro del 2013, quindi neanche molto lontana. Era una sfilza di tutta una pagina, ma scritta in piccolo, cioè scritta in piccolo, vuol dire con tanti nomi, eh? Tutti presentati con la loro etichetta di dottore, architetto, professore, dottore, dottore, architetto, professore. Non c'era nessun mister, nessun signore, il signor Mario Rossi. E siamo in Italia. Non uno. No, ce n'era uno. Era un inglese che rappresentava non so quale istituzione, col nome Mister. Bravo, facciamo. Arriviamo all'ultimo piano, il piano di gestione. Quello era veramente necessario, perché è voluto dall'UNESCO. Proprio doveva essere una somma di tutto quello che era successo a Crespi, di tutte le prospettive. Doveva raccogliere un po' tutto. È un piano molto bello, un volume di 312 pagine che io mi sono mi sono letta. È veramente l'assuma del pensiero urbanistico su Crespi. Ben fatto. Quindi, come dicevo, bisognava uniformarsi a quanto previsto dal Ministero dei beni culturali. Obiettivo del piano? La conservazione e valorizzazione del territorio, vincoli e prestizioni un po' più precise e sviluppo turistico, con un'occhiata anche all'uso della fabbrica. È dalla lettura di questo documento che si tragano molte amare considerazioni, solo un po' comitigate dalla speranza che qualcosa cambi. Cito solamente alcune considerazioni, non le dico io, le hanno scritte, tra l'altro questo piano ci ha collaborato, l'ha fatto un illustre specialista, il professor Gasparoli del Politecnico di Milano, quindi tutt'altro che cretino. Le scrivono loro queste cose. Sentiamo un po', sui colori per esempio, sui colori non c'è mica tanto da scherzare, perché è uno di quegli aspetti che è stato rilevato, non dico come neo, ma insomma è stato scritto che c'è questo problema. È l'unica cosa che si sono permessi di scrivere per non disturbarci troppo. Nella didascalia di Che cose crespi c'è scritto, comunque tutto è conservato, eccetera, eccetera, comunque alcuni cambiamenti sono stati apportati, quali la modifica dei colori delle residenze, dall'oro originario bianco con greca di mattoni come segnapiano. Che cosa era successo a questa tinteggiatura? Forse voi vi siete abituati a vedere crespi, è normale che la casa sia gialla, la casa sia verde, la casa sia scrostata, la casa sia bianca. Il buon Benito aveva cominciato già nel 1941 ad accanirsi contro quel tipo di casetta un po' inglesizzante, un po' anglofona, va bene, non parla, ma così all'inglese. Non gli piaceva quello stile e non andava in effetti molto d'accordo con Churchill, ma via via questi inglesismi, ci vogliono i colori della bandiera, la bandiera tricolore, rosso, verde, bianco. Allora, rosso e verde le case, il bianco era rappresentato dalle cornici delle finestre. Ma uno cerca una logica e non la trova, cioè non allora, adesso. Uno si aspetta, cioè individua che ci sono dei colori dominanti. In quale alternanza ci sono questi colori? Non la trova. Poi si sposta e dice ma forse non ho capito, la prospettiva è questa. Allora vede tre rossi e dice, ah questa è la fila dei rossi. No, dopo ce n'è una bianca. Poi li guarda in diagonale e dice, ah sì sì, adesso c'è proprio, alla fine arriva quella ocra. Vabbè, tutto una cosa così insomma. L'unica logica di questo è, vabbè, sono colorate e basta. Ma sentite cosa ammettono i redattori, gente illustre. Dopo 50 anni di passerese, se non da ieri, lo dicono loro, sulle tinteggiature. Quelle nuove risultano già compromesse. Materiali incompatibili tra intorno con supporto e finitura. L'impatto che l'intervento di nuova tinteggiatura prodotto sul contesto e sull'insieme urbano nel suo complesso, dal momento che il valore del villaggio si esprime anche e soprattutto a livello di sistema urbano, rischia di essere compromesso nel momento in cui venga alterata la sua percezione di insieme. Praticamente dice, ma che cazzo tu l'avete fatto? E poi, non vi è stato un adeguato controllo delle scelte cromatiche e degli interventi più recenti. Lo riscrivono un'altra volta. Necessario a garantire la protezione della materia storica che contribuisce all'eccezionale valore del sito. Considerando anacronistico il piano del colore precedente e che orienta a valutare il mantenimento dei materiali nella fase originale, piuttosto che quelli che testimoniano le molteplici fasi successive. In parole povere, c'è detto da gente che non usa un linguaggio terra-terra e del resto i professori non se lo potevano permettere di scrivere accuse contro le amministrazioni, anche perché avrebbero sputato nel piatto in cui mangiavano. Dicono, meglio lasciare il vecchio piuttosto che fare cazzate nuove. E vediamo alcuni di questi colori creativi. La casa rosa confetto, semi scolorita. Poi ci sono altre, con tre tonalità di rosso. Poi la casa ha due colori, perché i rossi sono rossi, ma sono tutti uno diverso dall'altro. Poi c'è la casa giallo-ocra. E poi c'è tanta fantasia, insomma. Un inciso. L'architetto di cui parlavo prima, Carlo Curto, fu nella commissione di Capriante per i colori di Crespi. Ed era un energico sostenitore del tornare allo stile antico. Del resto era talmente semplice. 50 anni per sapere che cavolo di colori mettere. Erano tutti uguali. Sarebbe stato proprio così brutto a Crespi, con l'idea che avevano i Crespi dei colori. Non è che se l'ha inventato il bambinetto Crespi, quello di mettere quel colore. Erano entrati in gioco fior di architetti, brunanti, pirovano, tutta sta gente. E' mica i geometrini del parco da nord. No, tanto per anticipare quello che viene dopo. Quindi l'architetto di cui parlavo, Carlo Curto, fu nella commissione di Capriante per i colori. E fu un energico sostenitore del tornare allo stile antico. Diavolo, era così semplice. Per i colori che andavano quindi storicizzati, fatti tornare alla storia. Ma fu dimissionato perché troppo esigente. Vabbè. Andiamo ai garage. Vabbè, lo sappiamo tutti. Ma il fatto è che lo sappiamo tutti, ma non pensiamo che abbiamo un orrore intorno ai Crespi. Perché ci siamo abituati. Lo sappiamo. Non troviamo soluzioni anche per colpa nostra, va detto. Ma i turisti le vedono queste cose. Una baraccopoli in un paese unesco. Ma stiamo scherzando? Per fortuna che i turisti li portate nei posti significativi di Crespi. E quindi certe zone si evitano. Guardateli, passate per le strade. Guardate. E' degno di un unesco un paese del genere? I turisti, quali veri, ne sono inorriditi. Allora noi ci siamo abituati. Come ci siamo abituati a tutte le cose mostruose. Una volta una mia allieva pettinatrice, avevo fatto io lo shampoo, era venuta una cosa grogiosa. E mi guarda e mi dice, ma che cavolo hai fatto? Io che non me ne ero accorta. E dico, perché? Cosa c'è? E dice, ci si abitua anche all'orrore. Ed è proprio così. E così per le recensioni. Non come, come sopra. E bello è che per tutte queste cose ci sono quintali di carte. Dove c'è il centimetro, il millimetro, il colore, l'asse, il tipo di legno, a che testo aveva messo? Come del resto per tutto. Andate a vedere come sono. 50 anni, eh, di soldi. Quanto sono costate queste cazzate? Quanto sono costate? Quindi, cambiati cento volte, i tettucci, si vede, infatti, si vede come il passale delle amministrazioni hanno agito sulla storia di Crespi. Bastava riferirsi alla storia. Comunque si leggono anche alcune cose carine in questo documento, in questo piano di gestione da 312 pagine. Anche alcune amminità. Tra queste, le siepi non devono impedire la visuale delle facciate. Ecco qui, l'interpretazione immediata. Intervenuto qualcuno? No. Poi, e si richiede che le aree utilizzate ad orto non siano percepibili dagli spazi pubblici. Cioè, chi c'è all'orto non lo deve far vedere. Oh, questo è un fantastico problema, eh. Ah, ho capito cosa deturpa Crespi. E la signora Gina, novantenne, grazie anche alla serenità che le procura, coltivare il suo orto. È tutta colpa sua se Crespi è conciata così. Veniamo al teatro. Questo, questo teatro, era uno dei siti più belli di Crespi. Il frontespizio del palco affrescato con scene dipinte da pittori Arturo Bonfanti ed Arturo Ferrari, allievo all'Accademia di Brenna di Giuseppe Bertini. Alcune scenografie, purtroppo, sono state eliminate negli anni 40 da canto. Come pure le quinte laterali con affreschi che toccarono anche il soffitto in epoca più recente con un intervento pittorico di Monzio Compagnoni. C'erano le gloriose sedie da teatro, popolari di una volta, in legno. Ora queste sedie si troveranno sicuramente in lussuosissime case da VIP in mezzo al moderno. C'era addirittura la buca per l'orchestrina qui davanti, il cosiddetto golfo mistico, in misura mini, un teatro che sarebbe potuto diventare una delle maggiori attrattive turistiche di Crespi, tanto più se lo si rendeva vivo magari con qualche rappresentazione. Ci ho suonato da ragazza in questo gioiello in occasione di un concorso internazionale. Mi avevano dato una medaglia, ero stata in tv, anche allora quando ero in tv, anche se ero scemo, diventava famoso. Spero di non esserlo stata io, però più o meno è sempre stato così. E quando ero bambina, ancora più piccola, suonavo nell'orchestrina del piccolo golfo mistico di teatro da paese ad accompagnare insieme ad altri musicisti, il signor Silva per esempio, il violino, le commedie della signora Bonino. Bene, questo teatro è stato acquistato dalla parrocchia, ma poi il comune che non aveva sale da adibire a manifestazioni pubbliche, si offrì di ristrutturarlo, mantenendo però il diritto di gestione e di utilizzo per vent'anni. Il teatro non era norma, gli arredi erano vecchi e non era agibile. E che si fa per renderlo agibile? Mica si pensa ad un restauro conservativo, perché pensate che qualcuno di quelli che sono nella stanza dei bottoni capiscono che qui c'è un'opera d'arte. E' certo che bisognava restaurarlo e portarlo a norma, ma qual è la filosofia di base? E in tutto, in molte cose si è fatto così. Questo teatro è molto bello adesso, infatti lo stiamo usando, ma come questo teatro, io almeno ne ho suonato almeno in cento in tutta Italia, tutti uguali. E gli architetti hanno il disegnino standard, con il trone in voluto, con le tende, con il soffitto regolarmente in polistirolo. Del resto, questa sala va perfettamente bene per fare i convegni, per fare i tavoli, per fare le sfilate di presentazione. Cosa vuol che gliene freghi a quelli di avere un teatro storico? Basta farci una bella sala con le valette, come quella che si sono fatti in migliaia di paesi italiani. Per gli applausi bastava ed avanzava. In più, nel piano, troviamo anche una conferma, una missione della confusione che c'è stata in tutti questi anni. E ci sono critiche furenti, ovviamente dette in un linguaggio politicali corretto. E qui leggiamo. Le tutele non possono essere limitate solo ad alcuni episodi emergenti, ma devono interessare l'intero contesto, cioè vedere Crespi come un tutt'uno. Poi si lamenta l'assenza di strumenti di controllo degli interventi sull'edificato. E scarsa attenzione alla qualità degli interventi e alla loro compatibilità con il contesto. L'assenza di progetti strategici sul territorio, scarsa efficacia dei vincoli e degli strumenti di carattere. Assenza di una visione integrata del patrimonio esistente, culturale e naturale. Cioè pensare cultura e natura. Quando mai si è pensato a questo? La carenza di una percezione unitaria dei valori del sito. E la difficoltà nell'identificare una strategia condivisa per la compresenza di più ambiti di intervento. E sì, perché decidono tutti. Comune, parco, sovrintendenza, regione, provincia. E ovviamente uno scarica sempre sull'altro. Beh, insomma, per arrivare a questo non è scritto, bastava la casalinga di Voghera. Il concetto di carino. Prima ne abbiamo parlato del teatro carino, no? Questo teatro, sì, certo. Certo che è carino. Ma è un concetto molto pericoloso con cui si possono fare grandi cavolate. Certo, qualsiasi cosa resa nuova rispetto a quella che era marcia prima, che era deteriorata prima, è sempre carina. Ma c'è anche una via di mezzo intelligente, che è quello di rendere nuova una cosa ristrutturata e mantenuta. A questo non ci si pensa mai. Quindi, tutto deve essere carino. Facciamo un esempio. Per esempio, l'intonacatura di tutti i muri di cinta esterni era tipicamente caratterizzata da alternanza di superfici piane intonacate con colori tenui, colonini e mattoni disposti ad arte. E non a caso, perché pensate ai muri di cinta intorno alla centrale termica, intorno alla ciminiera, pensate ai muri di cinta intorno al castello. Avevano un senso, perché se tu proteggi con una cinta un manufatto di mattoni, se tu fai una cinta tutta di mattoni, non esalti il manufatto. Ci arrivano tutti, no? Invece uno si è andato una mattina e l'ha scrostato, arrivando al mattone nudo. Voi direte, chi se ne frega? Ma certo, chi se ne frega? Io quando sono passato ho detto, carino, eh? Carino. Anche agli occhi dei turisti, ovviamente, diranno, carino, eh? Sicuramente carino. E ripristinarlo come era l'origine? No. Ancora una volta, alle H, vettame il zoo, abbiamo già sentito, lo sentiremo poi ancora parecchie volte. Che poi queste forme, questi colori fossero state decise da artisti prediletti dei crespi, pirovano, brunati, eccetera, neanche ci si riflette. Ormai sono i tempi moderni. Allora c'era un senso in ogni cosa. E guardiamo l'ex portineria. E qui, cavoli, qui ci ha fatto l'intervento una fior di studio di architetti, famoso in tutto il mondo. Almeno ci abbiamo quintali di giornali che parlano di questo studio di architetti che verrà qui a portare le meraviglie. Cosa hanno fatto? Tra l'altro non mi risulta che c'è ancora un accordo in atto. E quindi, non lo so perché, uno già comincia a rifare tutto. E cosa hanno fatto? L'hanno scrossato tutto. Carino. Sì, sicuramente carino. Beh, allora che cosa faccio io di casa mia? Vediamo. Per me sarebbe carino, sarebbe carino fare qualcosa del genere. L'avete visto quando ho fatto lo spettacolo Berlino Decadence? E perché no? È carino, no? E diamine. Lo fanno gli altri, lo faccio anch'io. Magari sul metà perché gli altri non sono d'accordo. Ma non importa. Tanto poi, chi interviene? I comuni hanno altre cose a cui pensare. E quindi, probabilmente vedrete. Poi magari metto il biglietto vicino alla via, no? Così mi faccio anche un po' di soldi. Tutto carino. E per questo carino, e per questa confusione, tante scartoffie, tanti soldi, tanti convegni, tanti applausi, tanta retorica, tanti bla bla bla. Ci sono articoli di giornale che lo, e non sto, e non sto a, guardate, agonia di un villaggio. Cioè non è che lo dico io, eh. Lo dicono tanti turisti intelligenti, ne parlano i giornali. Lo vedono tutti. Del resto come si fa a non vedere, a non vedere queste cose. Quindi abbiamo perso, abbiamo ancora lo scheletro originale, ma abbiamo perso la bellezza di tutte le sue sfumature. E continua l'azione predatoria sulla bellezza. E facciamo qui una carrellata impietosa di cose scaturito da quintali di costosissime carte. Vediamo. Bellissimi, eh? Fantastici. Questa ha due colori. Questa, quando arrivano i turisti, la vedono, bellissima. Eh? Eh, sembra un paese dove è scoppiata l'atomica e tutto, la vegetazione si rimangia quello, tutto quello che può. Vediamo. Eh, questo palazzo è molto triste. Andiamo avanti. Gli scarichi, quando si puliscono i boschi, tutte le sterpaglie, quando si puliscono anche i giardini, anche i boschi, le sterpaglie, sono così. E nei piani di cui parlavo si parla anche di conservazione del verde, di tutela del verde, di vincoli paesaggistici, di tutto ciò che è naturalistico. Andiamo avanti. Ecco. Questo vedono i turisti. Questo vedono i turisti. Ah, poi c'è il monumento al palo, eh, a Crespe. Eh sì, perché non si sa perché, quando si è fatto il palo lì, è arrivato il muratore, il muratore creativo, e ha detto io faccio il monumento al palo. Perché no? E diamine, c'è il monumento ai Crespi, il monumento ai Caduti, poi faranno il monumento non so chi, facciamo il monumento al palo. Pensate che per fare quella roba lì, la strada è stata chiusa due giorni. Dovevano fare il monumento al palo. Andiamo avanti. Ecco. Questo. Beh, l'erba poi non se ne parla, va bene. È normale ormai vederla così. Ah, qui c'è anche qui un po' di fantasia, no? Una bella grechina intorno alla... Beh, tanto... Eh beh, ma neanche bella, eh. Non dico mica. Eh beh, facciamo che io domani la mia grechina. Magari anche un pochino più bella. Ebbene, questi sono... Questa è la sua... E' ordinaria amministrazione. Vai. E' questa è l'ordinaria amministrazione. Ecco, qui ovviamente nei piani si dice che il parco tutelerà tutti i vincoli possibili, immaginabili. Tutte le tutele, non c'è zona più tutelata di questa. E poi, in un attimo, le piatte sono vecchie, ma ne parleremo dopo. Si parla anche di valorizzazione dei sentieri naturalistici, eh. Ebbene, questo è l'ultimo. Vabbè, capita. Non solo a Roma. E' per questo che la cittadinanza ha applaudito per 50 anni? E pensate che i turisti non vedano? A salvarci la faccia, per fortuna, in un passato non tanto remoto, alcuni piccoli, ma neanche proprio piccoli, interventi in prossimità dei monumenti più rappresentativi di Crespi. Hanno rivelato un pizzico di attenzione inedita nei confronti di alcuni particolari. Un concetto di conservazione più armonioso e meno improntato al carino, quale il ciotolato della scalinate nella zona scuola-chiesa, la recinzione del giardino della scuola materna, la cura del Bersò, in quel meraviglioso incrocio detto quadrivio, unico accesso a Crespi degno di un sito unesco. Bello anche il bordo delle strade principali in ciotolato. Peccato che quando viene a mancare parte della ciotolatura, si butti dell'asfalto. Va bene. Mi fai sentire un po' di confusione in musica? Mi fai sentire un po' di confusione in musica? Grazie, sì, sentite che noia, no? Una confusione. Ma c'è chi si abitua alla confusione, c'è chi la confusione la fa diventare normalità.